La Zcaffè è un'azienda italiana produttrice di caffè tostato. Nati con una piccola torrefazione a Marsala nel 1929, oggi produciamo misceli di caffè per i veri cultori dell'espresso italiano. Le quattro generazioni succedutesi nella conduzione della torrefazione hanno combinato l'impulso imprenditoriale all'attenzione per l'innovazione e l'ambiente. In questa ricerca, Zcaffè ha scelto Snyder Electric per proseguire lungo il suo percorso adottando la piattaforma EcoStruxure Automation Expert, il primo sistema di automazione industriale basato sullo standard aperto IEC 61499. La volontà di migliorare il sistema di pesatura per l'efficientare l'intero processo è stata la miccia del percorso di digitalizzazione che si è concretizzata nel progetto messo a punto con il System Integrator BitControl parter di Snyder Electric. Oggi ciascun sacco che lavoriamo è dotato di un sensore che usa una tecnologia RFID con cui è possibile garantire tracciamento e monitoraggio di ogni passaggio fino alla spedizione. Ciò garantisce un maggiore controllo rispetto al passato ed elimina il rischio di errore rispetto alle miscele di caffè. L'adozione di EcoStruxure Automation Expert ha garantito fin da subito la disponibilità di un'architettura di automazione in grado di integrare digitalizzazione e innovazione a tutti i livelli, non solo quindi nei processi produttivi, con la giusta flessibilità e apertura. Il sistema ha dimostrato di avere le carte in regola per essere l'abilitatore tecnologico di un percorso di digitalizzazione che è partito dal campo con la conversione dei sistemi di pesatura per coinvolgere progressivamente tutti i sistemi informativi aziendali.